Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie davvero per l'invito e insomma qualche anno che vengo e ogni anno ci sono spunti davvero interessanti, essere qui con i colleghi che amministrano regioni molto più grandi della mia con problemi analoghi ma anche con qualità ed efficienze analoghe possiamo dirlo e rivendicarlo per me è un momento importante e stimolante. Io userei il titolo del meeting per provare a definire un pochino qual è lo spirito che sta dietro l'idea che ha espresso anche il collega Federica che una filiera corta e una responsabilità affidata a qualcuno che i cittadini possono incontrare per strada sia un sistema che può funzionare meglio ma il titolo del meeting io penso che sicuramente ciascuno di noi come individuo deve essere consapevole che c'è qualcosa che va oltre la sua persona oltre il suo essere e che muove appunto la storia però il titolo ci dice anche che noi ci realizziamo e siamo felici se accanto a questa consapevolezza noi dentro questa storia ci vogliamo stare ci vogliamo essere realizzarci ed è se volete il senso vero della parola autonomia ed autogoverno cioè essere consapevoli che siamo dentro una nazione un paese uno stato ma che siamo tutti chiamati però a essere parte integrante delle forze che muovono la storia di quello stato e allora se qualche anno fa si diceva rivendicando l'autonomia lo dico agli amici della lega padroni a casa nostra vogliamo l'autonomia perché vogliamo essere padroni a casa nostra no oggi e fortunatamente le regioni del nord che hanno intrapreso assieme all'emilia anche peraltro un percorso virtuoso di rimedio romagna per carità come quando dicono frio di venezia giugna per carità che hanno intrapreso un percorso finalmente virtuoso di acquisizione di autonomia che vuol dire avere competenze ed esercitarle allora non è più padroni a casa nostra l'autonomia e l'autogoverno è padri a casa nostra il padre non è un padrone il padre è qualcuno che esercita un ruolo e una responsabilità e la esercita a favore dei propri figli questo significa autonomia e autogoverno e quanto sta accadendo nel nostro paese a seguito anche dei referendum che sono stati fatti in veneto e lombardia che pure non erano necessari da un punto di vista no delle procedure costituzionali lo sono stati sotto il profilo politico del consenso del convincimento ci mancherebbe altro però questo è il tempo di valorizzare davvero chi ha dimostrato di sapere fare le cose e sto parlando di voi non sto parlando di noi e attraverso quello valorizzare le potenzialità che il nostro paese ha e le nostre e le particolarità che il nostro paese ha vengo al tema autostrade ma è molto collegato quello che sto dicendo nel 1959 in trentino in alto adige le due province la regione allora che era molto più forte delle province disse ma noi abbiamo bisogno di uscire dal rischio dello spopolamento e dal rischio del sotto dello sottosviluppo nel dopoguerra l'alto adige il trentino erano a un livello di sviluppo socio economico paragonabile alle scusate peggiori regioni del sud e quei padri che avevano indotte l'autonomia e che non ragionavano da padroni cosa dissero dobbiamo fare due cose l'autostrada e l'università e si sono fatti da soli l'autostrada dell'università nel 1959 hanno costituito una società assieme anche agli enti territoriali del veneto e dell'emilia ed è nata l'autostrada del brandero che poi ha avuto anche una partecipazione privata oggi al 15 per cento questa partecipazione privata beh con questa autostrada il trentino e l'alto adige si sono assicurati uno sviluppo socio economico la possibilità di essere connessi al resto del paese quindi di far passare le merci di sviluppare il turismo e hanno investito gli utili negli anni per fare altre cose attraverso questa autostrada per esempio per finanziare assieme allo stato e assieme all'europa il tunnel del brandero che si sta costruendo è finanziato in parte con gli utili dell'autostrada per spiegare che cosa significa essere padri e non padroni a casa nostra stesso meccanismo per l'università anche lì bisognava uscire con la cultura e con la conoscenza e con la formazione dal pericolo del sotto del sottosviluppo beh qualcuno pensò che indipendentemente da ciò che lo stato pensava di fare nel nostro paese in termini di sviluppo di sedi universitarie valesse la pena farne una a trento hanno aperto un istituto e poi si è riusciti a far diventare questa università tutti gli effetti statale ma oggi questa università è finanziata interamente sul bilancio della provincia autonoma di trento allora io lo so che quando parla il presidente del trentino l'ottantacinque per cento dell'uditorio forse il 90 pensa ma che bravo che sei tu hai un sacco di soldi per forza che parli così no ditelo è così è così è così no è sul che bravo che sei che non applaudivano evidentemente però vorrei spiegare dove sta la differenza la differenza sta nel fatto che molte delle cose di cui abbiamo parlato di cui ha bisogno il nostro paese delle infrastrutture di tutto quanto il trentino così come l'alto adige se le finanzia tutte cioè lo stato non c'è in termini di finanziamento ogni ponte ogni strada ogni viadotto no è assolutamente provinciale allora che cosa significa questo significa che in termini di spesa pubblica questo costa molto meno che se fosse amministrato dallo stato e in termini e in termini di controllo l'ha già detto fedriga è evidente che la filiera è molto più corta e quindi ciò che non va è molto più visibile compreso il fatto e chiudo davvero compreso il fatto come ha detto fedriga che si possa anche tranquillamente scegliere tra chi amministrato prima e non ha fatto bene che amministrato dopo speriamo che faccia meglio perché si può dare la colpa con grande precisione a chi non ha saputo fare le scelte questa autonomia e autogoverno e allora tornando al titolo del meeting io so che sono un po un usurpatore del titolo a prodomomea sul tema dell'autonomia però io penso che la parola autonomia anche come individui e poi come individui che tengono alla loro dimensione collettiva la loro comunità la loro città il loro territorio la loro regione un pochino di orgoglio nell'essere protagonisti della nostra della nostra storia io penso che forse anche da questa riflessione oggi del meeting forse lo possiamo ritrovare e magari pensare che tutto ciò di cui ci ha parlato il governatore toti e anche io naturalmente saluto con particolare calore e senso di solidarietà forse può essere affrontato con un ottimismo maggiore proprio se guardiamo agli esempi virtuosi cerchiamo di valorizzarli e culturalmente cercare di trasmettere quest'idea anche al resto del paese può essere forse una via interessante per provare a fare meglio quindi concludo con un augurio che faccio in modo particolare per ora al collega fontana ma anche al governatore toti cioè quello di potersi assolutamente trattenere quello che ci tratteniamo noi che sono certamente ma tu sei già sulla buona strada che sono i 7,5 decimi di ciò che le imprese trentine i cittadini trentini versano di tasse allo stato esattamente più o meno quello che quando c'era il tuo predecessore si stimava in lombardia come ottimale per avere un sistema di autonomia compiuta però ti faccio anche un altro augurio quello che con questi sette decimi la lombardia il friuli il veneto la liguria un domani possano esercitare tutte quelle competenze che noi esercitiamo con i 7,5 decimi che da voi sono esercitate dallo stato e vi faccio un piccolo elenco che ho fatto così a memoria dissesto ideologico idrogeologico prevenzione del territorio noi zero dallo stato scuola zero stipendi gli insegnanti infrastrutture zero sanità zero noi non esistiamo sul fondo nazionale non prendiamo una lira di fondi di settore aiuti alle imprese sostegno ricerca quant'altro università ho detto che ce la finanziamo previdenza complementare ce la finanziamo tutta noi forse è una cosa che abbiamo solo noi in italia poi se avete voglia una volta vi spiegherò come funziona trasporti tutti i trasporti e noi facciamo dei contratti di servizio con tren italia per finanziare noi un po lo fa anche la lombardia su alcuni trasporti locali per finanziare noi il trasporto pubblico che dovrebbe finanziare lo stato tutto il sistema di welfare compresi gli assegni di invalidità compreso il famoso reddito di cittadinanza che noi abbiamo introdotto ormai cinque anni fa io ero assessore sociale allora politica del lavoro cosa resta fuori resta fuori la giustizia l'ordine pubblico la riscorsione delle tasse e le pensioni che ovviamente sono sul conto dell'inps questa differenza tra l'altro sulla giustizia noi a spese nostre ci siamo assunti l'onere di stipendiare il personale amministrativo organizzarlo noi a supporto della dell'azione giurisdizionale e fare la manutenzione quindi la logistica di tutti gli uffici giudiziari perché abbiamo detto lo stato invece di toglierci ancora qualche soldo di quelli che ci hai tolto in questo periodo di crisi difficile ti sostituiamo noi delle spese e quindi è come se tu ce li togliessi questo augurio non è un augurio per dire che il trentino è bravo e che bravi che siamo no è per dire che io ci credo davvero e ci credo veramente a prescindere da chi governa un territorio non mi interessa se io oggi sono espressione di un governo di centro sinistra autonomista e il collega fontana espressione di un'altra parte politica non è questo il tema il tema è che io sono assolutamente convinto che se le strade statali in trentino non c'è una strada statale non esistono le strade statali in trentino le trovate malmesse ma sì voi avete tanti soldi dice no le trovate malmesse ma perché sono tenute bene perché c'è quel sistema di prima io sono assolutamente convinto che se il friuli la liguria anche il veneto l'emilia romagna la lombardia potessero gestire le strade statali lo stato potrebbe fare questo ragionamento io spendo 100 stato guarda fedriga fontana ti do 98 sei capace di farle funzionare fontana tu l'accetti la scommessa e come che l'accetti perché sei sicuro di farle funzionare ora questa è la scommessa vera per il paese io tre anni fa ho scritto un libretto che nessuno ha letto perché non avevo molti soldi per promuoverlo territori maggiori editore si chiama che aveva una cartina dell'età titolo e territori con una cartina dell'italia rovesciata oppure in piedi ecco io penso davvero che sia il tempo di scommettere sulla responsabilità dei territori virtuosi che non vuol dire abbandonare gli altri perché guardate che io sono alla fine del mio mandato di presidente della provincia e le due cose che mi ricordo di più con più come dire anche commozione di questo mandato sono due una quando c'è stato il terremoto di amatrice dove i volontari trentini in 17 giorni hanno assicurato ad amatrice una sede scolastica che è ancora funzionante adesso stanno inaugurando quella nuova e l'altra 15 giorni fa a camerino trentino alto adige e siamo riusciti a convincere anche gli amici del tirolo con i quali abbiamo un'esperienza di cooperazione trasfrontaliera da anni che è diventata un euro regione una piccola europa che proviamo a sperimentare e a far funzionare con i rapporti fra di noi abbiamo messo ciascuno un po di soldi abbiamo nel bilancio come tutti noi insomma una quota di solidarietà per iniziative nel resto del mondo e le abbiamo dedicate e abbiamo inaugurato l'altro giorno lo studentato dell'università di camerino con 400 posti beh sono le due cose che ricordo con più come dire trasporto e con più senso di essere stato utile anche al mio paese pur venendo da un'autonomia speciale non vedeteci come dei privilegiati vedeteci come un piccolo esempio senza essere evidentemente no i primi voler fare i primi della classe a tutti i costi come un piccolo esempio di come si può essere protagonisti felici dentro quella storia che si muove lo possiamo fare individualmente ma forse in una dimensione più collettiva recuperando e valorizzando bene le nostre identità anche regionali che del nostro paese sono una ricchezza e non come dire una diminuzione io quando sento parlare di annegare tutto in una logica nazionale io penso che ci sia un arretramento quella autostrada che è stata fatta nel 59 in trentino avevano provato a nazionalizzarla coliri ma qualcuno ha detto in trentino no dovete passare sul mio cadavere per nazionalizzarla guardate che in trentino il governo della democrazia cristiana e quindi era assolutamente come dire in sintonia con il governo nazionale il trentino quindi non era un problema politico ma hanno detto no questo è un bene che i trentini hanno deciso di costruirsi con i loro soldi ed è giusto che rimanga nella loro disponibilità e che sia utile al paese perché ricordate che dal corridoio del Brennero passa la stragrande maggioranza delle merci che vanno da nord a sud in Europa e noi ne subiamo un pochino le conseguenze anche dal punto di vista ambientale. Auguri.